Con Marco Bonanomi in gara quest'anno con Marco Confortola, iniziamo dal pilota. Marco, come sta andando questo Monzo Rally Show? Sta andando bene, per essere il primo anno non posso lamentarmi, anche perché è una bellissima manifestazione, tantissimo pubblico e poi guidare una macchina rally WRC per la prima volta, tutto nuovo, ho dovuto resettare completamente la centralina, però sta andando abbastanza bene. Poi chiaramente, una volta che abbiamo visto che potevamo essere lì d'appoglio, inizia la competizione vera, adesso commento a caldo che è finita la Grand Prix 2, c'è un po' di ramarico per l'ultimo giro che ho trovato, due macchine che Bandiere Blu non le hanno neanche viste, però il resto è tutto a posto, Siamo contenti perché con l'associazione Onlus, di cui siamo testimoni io e Marco, sono tutti contenti, è un bellissimo evento anche per loro, sta riuscendo alla grande, quindi questa è la cosa principale. Poi chiaramente, più siamo avanti in classifica e più anche loro sono contenti. Marco, anche tu sei un grande sportivo, alla seconda presenza qui a Monza, come vedi la partecipazione quest'anno e se vuoi parlarci anche un po' di questa Onlus? Innanzitutto sono onorato di correre con Marco perché è un grande pilota e anche un grande amico, per cui questa è una grande cosa. Un'altra grande cosa è che corriamo, visto che siamo tutti e due testimoni di questa Onlus, che ha anche un primo aiuto, corriamo per dare più visibilità a questa Onlus, per cercare di dare proprio aiuto a queste persone che in fondo non stanno proprio così bene, in fondo siamo solo uomini che aiutano altri uomini, questa grande Onlus che aiuta tantissime persone in difficoltà, questa è una cosa onorevole per noi. È bellissimo perché comunque a me piacciono i motori e smanettare è grandioso e Marco sta veramente andando, andando veramente forte, per cui grande Marco. Cominciamo a Marco un po' di rammarico per adesso questa finale di questa gara, di questa Grand Prix, perché comunque dalla scala in avanti tutti sbandieravano, non ce la sanno passare, erano piantati e Marco andava più forte. Peccato, peccato perché comunque ci deve essere una correttezza a tutte le parti, per cui seguire bandiere, tempi, visto che abbiamo appena preso una piccola penalità, dovremmo essere tutti più corretti.